Salve a tutti siamo qui con un nuovo video e in questo video continueremo a stare su LSP de Ferri In questo episodio ragazzi facciamo parte del reparto di investigazioni scientifiche dell'arma dei carabinieri E lo so che è un pelino macabro forse però ragazzi naturalmente è necessario serve anche questo lavoro Ed è una cosa molto molto importante e oggi risponderemo a qualche chiamata adatta a noi Ed è una cosa che è una figata ragazzi però vedremo esattamente cosa dobbiamo fare E che cosa dobbiamo fare intanto avviciniamoci al nostro veicolo come vedete siamo al dipartimento dei carabinieri e polizia In questo caso vabbè è tutto unito qua enorme di Los Santos e possiamo fare un sacco di cose interessanti Però quello che vi volevo dire oggi appunto è che abbiamo un bel po' di lavoro da fare per quanto riguarda omicidi Incidenti stradali ogni cosa in cui c'è bisogno della scientifica per appunto analizzare dati Visualizzare e fotografare e catalogare gli incidenti e purtroppo la gente che potrebbe bene o male essere decedutati sicuramente Perché ci chiamano proprio all'ultimo momento diciamo che è il lavoro dei coroner sapete quello che vi dico sempre negli episodi di LSPFR Coroner eccoci qua quindi questo è il veicolo ragazzi bellissimo del reparto investigazioni scientifiche Guardate che roba ditemi se non è bellissimo abbiamo il logo naturalmente dietro abbiamo il logo di lato Abbiamo il numero unico reparto investigazioni scientifiche fatta apposta carabinieri eccetera eccetera È un bellissimo Mercedes A vito se non erro sinceramente non mi interessa non ne ho idea E niente noi possiamo ragazzi salire a bordo e vediamo se c'è qualche chiamata per noi Però prima di fare ciò dobbiamo dire che siamo operativi E beh oggi vedrete che utilizzeremo una specie di altro metodo per fare tutto ciò E adesso vi faccio vedere esattamente di che cosa si tratta Ed eccolo qua ragazzi si tratta esattamente di questo il paperwork Allora adesso vi spiego esattamente che cos'è perché è una novità su LSPFR almeno nei miei episodi E ragazzi abbiamo i vari dipartimenti polizia di stato arma dei carabinieri In questo caso ho diviso appunto per comodità reparto investigazioni scientifiche vedete Che è il nostro reparto e qua noi possiamo fare veramente di tutto Vedete l'ho aperto adesso possiamo dire l'orario di inizio quindi l'orario di inizio del nostro lavoro L'orario di fine quante chiamate abbiamo ricevuto che cosa abbiamo A cosa abbiamo risposto quanti arresti abbiamo fatto in caso di polizia eccetera eccetera Quante auto abbiamo fermato in caso appunto di polizia eccetera eccetera E possiamo fare il report di tutto quello che facciamo Quindi se adesso io dico che inizio alle 20 e 22 ad esempio ok Io posso poi riportare tutti gli incidenti tutte le ricerche che ho fatto Tutto all'interno di qua e poi posso naturalmente salvare E avrò sempre soprattutto lo potranno vedere anche i miei colleghi e i miei superiori Esattamente tutto quello che ho fatto Vedete questo agente 1 super gashbel reparto di investigazioni scientifiche Quindi a questo punto ragazzi beh non ci resta altro che Ok dire che iniziamo qua alle 23 alle 20 e 23 e 07 ok Non abbiamo ricevuto ancora nessuna chiamata poi lo faremo ogni volta che terminiamo qualcosa Ma comunque per ora usciamo e lasciamo stare questo Possiamo iniziare ragazzi bene Ok dobbiamo arrivare alla scena per questo incidente automobilistico fatale A Capital Boulevard alla Mesa quindi dobbiamo parlare poi con l'agente incaricato Il primo che è arrivato sulla scena e vedere esattamente quello che ci sa dire sulla situazione ragazzi Noi intanto attiviamo i lampeggianti Direi di raggiungere il posto il più velocemente possibile perché naturalmente non aspetta Non nessuno aspetta Probabilmente stanno bloccando il traffico non so esattamente l'incidente come si è svolto Ma adesso andiamo a dare una controllata a dare un'occhiata e ovviamente dobbiamo fare le foto Del della persona appunto delle persone speriamo sia uno solo il minimo possibile E poi aspettate un attimo che utilizzo un attimo le sirene i lampeggianti perché ho sbagliato esattamente strada Scusatemi 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 grazie grazie Ok perfetto e direi che giù o su dovrebbe essere giù Aspettate che mi sto un po' perdendo non conosco molto bene la città ma eccoci qua perfetto Allora ragazzi e mamma mia che traffico che c'è oggi allo santo sei incredibile Attenzione prendiamo questa corsia preferenziale qua Guardate si tolgono tutti perché vedono i lampeggianti del nostro veicolo e quindi si tolgono tutti Poi soprattutto se utilizziamo le sirene sentite qua Adesso si spostano veramente tutti al centro Dovevo passare al centro attenzione Ok non tutti sono esattamente così bravi a rispettare le regole come gli altri Ma ragazzi eccoci qua siamo arrivati praticamente Ok allora apparentemente come vedete innanzitutto togliamo le sirene Togliamo i lampeggianti anzi i lampeggianti lasciamoli Come vedete c'è un incidente che sembrerebbe interessare 4 auto o 3 auto 3 auto sicuramente 4 non ne ho idea perché c'è una anche laggiù ma non penso che sia per quel motivo lì Semplicemente andiamo a vedere apriamo dietro dove abbiamo tutta la nostra terzatura Così riusciamo a prendere tutto quello che ci serve Ok perfetto prendiamo qua Ok intanto innanzitutto andiamo a vedere prima perché voglio capire esattamente le dinamiche di questo incidente Vedo vetri rotti ovunque non sembrerebbe esserci sangue Non so esattamente che cosa sia successo sinceramente Quindi vediamo un attimo Allora ci sono degli agenti con la Giulia naturalmente C'è una poliziotta E attenzione perché i coni stanno facendo un paio di casini Qua c'è un po' di casino Attenzione perché non vogliamo altri morti qua E non vogliamo altri decessi C'è una signora all'interno dei coni che sta facendo strage Peggio di quanto l'incidente ne abbia fatto Quindi se la signorina se ne può andare Qua c'è un'investigazione in corso Signorina non avrebbero neanche dovuto dare la patente a lei E ci penseranno i poliziotti qua dietro di me Ma sinceramente se potesse togliersi dal cavolo Farebbe una bellissima figura per tutti quanti E quindi sarebbe molto più utile Che ne dice Comunque per quanto riguarda noi ragazzi Vedo due persone a terra Adesso esattamente non so per quale motivo Gli agenti dell'unità mobile qua Del pronto soccorso L'hanno lasciati per terra E sinceramente è una cosa che mi sto veramente chiedendo molto Ma caspita che traffico che c'è oggi in giro ragazzi Quindi ci sono anche i pompieri Nessuno è riuscito a fare niente Apparentemente purtroppo sono morti Riportano ferite gravi al torace Almeno quest'uomo E naturalmente probabilmente qualche parte del viso Appunto della testa Vedete sono danneggiate Almeno questa donna ha seri problemi ad essere riconosciuta Purtroppo dopo l'incidente Riporta lesioni gravi anche al torace Anche lei Quindi graffi un po' ovunque Quindi come vedete I poliziotti hanno fatto un ottimo lavoro A bloccare la strada qua Sembra che ci siano veramente un sacco di camion Soprattutto oggi Però la situazione sia sotto controllo Almeno per quanto riguarda quello Noi ragazzi purtroppo dobbiamo fare un'analisi medica di questi sospetti Quindi come vi ho già detto Vedo Questo sembrerebbe in realtà essere un colpo di arma da fuoco Oppure probabilmente è stato trapassato da qualche pezzo dell'auto Ci sono tre auto che sono laggiù Io non so come siano finiti i catapultati qua Ma magari qualche testimone oculare potrebbe dirci qualcosa di più a riguardo Comunque io prenderei un paio di foto Farei un paio di foto della situazione qua Fatemi fare un paio di foto ai cadaveri Giusto per esattamente analizzarli Poi naturalmente ce li portiamo presso Ecco fatto Facciamo un'altra foto anche di questa donna qua Sfortunatamente che adesso non so Avranno già controllato sicuramente i medici Se aveva magari qualche cosa presso Qualche cosa addosso Ecco fatto Foto fatta Salviamola e mandiamola direttamente in centrale Ecco fatto Aspettate un attimo che è un po' lentino il mio telefono Benissimo Fatto Adesso ragazzi Niente possiamo portarceli via Purtroppo E gestiamo noi la situazione qua Quindi sì Niente da dire Purtroppo ragazzi Benissimo allora apriamo il nostro paperwork ragazzi E vediamo un attimo di inserire le informazioni Quindi come vedete qua c'è un mago apparentemente Non so cosa sia questa figura Probabilmente qualche mio collega si è divertito a disegnare un mago In ogni caso Allora Noi possiamo dire che abbiamo ricevuto una chiamata Abbiamo fatto una ricerca Facciamo un nuovo report della chiamata Vedete Reparto investigazioni Qua è mercoledì 25 marzo L'ora è le 20 e 40 Tipo di chiamata Traffico Rispondere Standard Naturalmente Niente codice 2 Né codice 3 Non erano emergenze Agente super gas Per naturalmente Agente 1 Abbiamo già il numero Perché Riparto investigazioni Qua no Perché Non è department È arma dei carabinieri Arma dei carabinieri Perfetto E 20 Allora Due corpi trovati nella scena Nella scena Ok Ferite gravi al torace e all'addome Serie ferite al viso 3 auto coinvolte E adesso ancora non sappiamo altro Perché purtroppo naturalmente Questa è la chiamata numero 1 Sì 3 auto coinvolte Dobbiamo parlare ancora con i poliziotti Quindi prima di fare questo Magari avremmo dovuto parlare con i poliziotti Comunque Perfetto Finito Perfetto Adesso si è salvato Possiamo uscire da qua Tornare a noi ragazzi E vediamo di parlare con qualcuno di qua Allora parliamo sia con il sospetto O testimone oculare Esattamente lui Che sembrerebbe essere uno che vive sotto il ponte Sinceramente non ne ho idea E poi abbiamo naturalmente anche la poliziotta Della polizia di stato Che appunto non so se ci sa dire qualcosa Vorrei parlare prima con lui Però se è possibile Grazie mille Vediamo un attimo Ok hey ciao Posso avere due Scambiare due parole con te Riguardo a questo Incidente qua Stavano andando veloci E poi l'hanno colpiti L'hanno colpiti Ed eccoci qua Ok ok calma Amico calma Siamo qua per aiutare Calma Ok mi dispiace Solo veramente Sono spaventato E si e si e si sai no Si ok allora Guarda capisco Non c'è assolutamente bisogno di essere così Aggressivi Spaventati Eccetera eccetera Ok si mi dispiace signore Benissimo ragazzi Questo è il primo passo Ok allora Sai dirmi qualcosa che Nessun altro qua sa Che magari non hai detto Né all'ambulanza Né alla polizia Qualunque cosa riguardo all'incidente Eh si l'ho già detto All'agente di polizia E si tratta di un hit and run E c'è C'è tipo tre o quattro ore fa E apparentemente uno ha colpito L'hitterra ragazzi E quando qualcuno colpisce Un veicolo o una persona E se ne va a scappa Quindi non presta soccorso Ok l'ho saputo dall'agente A parte questo Tutto posto Il resto Tutto va bene Si signore L'agente ha controllato il mio record E sono uscito pulito Tutto posto Ok ragazzi Detto ciò Io direi che purtroppo qua Facciamo finire la situazione Agli agenti Abbiamo fatto le nostre foto Quindi adesso ci penseranno loro Sia alle auto Che al traffico Che eccetera eccetera L'ambulanza è già qua Che può portare via con la barella Naturalmente le persone Soprattutto chi sta male E chi appunto Perché noi non possiamo portare i cadaveri Vedete con questo Con questo Furgone qua Però potevamo prestare Insomma Investigare Se ci fosse qualche bisogno Ma in questo caso Non ce n'è Perché è stato tutto Praticamente risolto Dall'ambulanza Dalle persone Dai poliziotti Eccetera eccetera Quindi io direi di fare Un'inversione a U Qua ragazzi Abbiamo fatto tutto Abbiamo tutte le informazioni Del caso Sappiamo esattamente Come sono morti E tutto quanto Quindi abbiamo fatto bene A fare subito il report Possiamo liberare la scena Quindi io direi di togliere I lampeggianti Una volta entrati Nella corsia Nella carreggiata E andarcene di qua Benissimo ragazzi Brutta situazione Ovviamente Una brutta sventura Un incidente Gli incidenti sono sempre brutti Comunque usciamo da qua E purtroppo Due persone sono decedute E l'avete visto anche voi Una persona si è salvata Che era il terzo conducente Fortunatamente C'era solamente una persona Ad auto All'interno delle auto E quindi bene La situazione Dai Ce la siamo Ce la sono cavata Abbastanza bene Mettiamoci un attimo qua Aspettiamo una nuova chiamata Ok c'è un corpo Sulla Jamestown Street Quindi adesso esattamente Corriamo a vedere Di che cosa si tratta Benissimo Non perdiamo altro tempo Anche qua ragazzi Togliamo la sirena Anzi la rimettiamo Perché appunto Tratta di un corpo Decisamente questa volta È stato trovato Un corpo dal nulla Quindi insomma Situazione piuttosto importante E un attimo solo Attenzione agli incroci Ok qua a destra Perfetto E vediamo di raggiungere Esattamente il luogo Attenzione qua Attenzione Ehi Attenzione Oh Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Attenzione Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Oh addirittura Che il treno Attenzione Accipicchia Credo sia questo Oh mamma mia Ok Penso che ce l'abbiamo fatta Siamo arrivati Dovrebbe essere qua dentro Da qualche parte Non vedo degli altri agenti Però sinceramente Il che non mi fa ben sperare Oh sì che li vedo Gli altri agenti C'è la polizia qua C'è la polizia già qua Ok Allora scendiamo Dal nostro veicolo ragazzi Vediamo esattamente Di che cosa si tratta Sulla scena Qua Ok Parliamo al primo agente Che ha risposto alla chiamata E vediamo di avere Un report preliminare Sull'accaduto Vediamo che cosa ci sa dire Ok Eccolo qua Salve Ehi Cos'hai Mike Ehi ciao L'abbiamo trovata Circa 30 minuti fa Nessuno ha visto niente Ovviamente E c'è una donna Con cui forse vorrei parlare Ok Mikey Perfetto Mi parlano Mi pagano per questo Eh immagino Ok comunque Sembrerebbe forse Il business è andato male Una specie di attività Un po' strana Forse era una prostituta Ed è stata uccisa Grazie Mike Grazie mille Benissimo ragazzi Quindi abbiamo solamente Questi come indizi Sembrerebbe che ci sia appunto Una donna a terra Che eccola esattamente qua Possiamo ispezionare il corpo Vediamo di che cosa si tratta Sembrerebbe essere una donna Ovviamente Quasi seminuda Praticamente seminuda Vediamo Ci sono molteplici Colpi di un coltello Quindi accoltellamenti Allo stomaco Ci sono dei danni E Al collo appunto Ci sono degli strani Segni sul collo Le mutande Della signorina Sono sporche E sono al contrario Che è un'ottima Ottima Cosa da sapere Appunto perché È molto utile Per poter capire Se appunto È Insomma Se si tratta di un Uno stupro Un qualcosa del genere Quindi Facciamo una foto Anche di lei La prendiamo bene In tutte le sue parti Ecco fatto Fatta la foto Perfetto Adesso ce la salviamo Nella galleria Perché è utile Anche questo Dobbiamo mandarla Naturalmente A chi di dovere E niente Adesso ci penseremo Noi qua Riguardo a questa signora Qua che purtroppo Signorina Anzi E purtroppo Insomma Non si sa esattamente Ma cosa troviamo Anche un portafoglio Trovato Abbiamo trovato Un portafoglio Vedete C'è un portafoglio Sembrerebbe essere vuoto Ma lo includiamo Naturalmente Nell'evidenza Apparentemente Aveva una card Con scritto Di Jessica Johnson Che probabilmente Lei 20 dollari In contanti E 2 dollari E mezzo Quasi In monete In monetine Aveva 2 dollari E 3 Più o meno Qualcosa del genere Quindi niente ragazzi Io Purtroppo adesso Beh La farei portare via Quindi chiamiamo L'EMS Che se la porta via Con la stampa Con la barella Appunto Con l'ambulanza Perché noi Come vi ho già detto Non abbiamo spazio Per farlo E quindi direi Che lo possiamo Li possiamo chiamare A questo punto E vediamo un attimo Ecco fatto Allora James Sound Street Adesso dovrebbero arrivare E se la possono portare via Noi abbiamo praticamente tutto Non c'è la barella In questa macchina Non l'abbiamo inclusa Ragazzi qua Nel reparto Di investigazioni scientifiche E quindi non lo so Adesso arrivano E se lo gestiscono loro Addirittura Un elicottero Della polizia Che è appena decollato In volo Guardate che figata Pazzesca Bellissimo Questa mi era assolutamente Inaspettata Ma in ogni caso Adesso vedranno loro Di gestirsi la situazione Vi direi ragazzi Di fare il nostro report Con calma E ci vediamo domani Perché oggi veramente È iniziato a piovere E niente È troppo buio Ormai terminiamo qua Ok ragazzi Eccoci qua di nuovo Buongiorno Abbiamo ricevuto Un'altra chiamata ancora Che adesso andiamo a rispondere Si tratta di un veicolo Un altro incidente Sulla hillside Di Vinewood Quindi come vedete Rispondiamo a tantissimi incidenti È veramente raro Un omicidio O come avete visto La una signora Appunto che Si era un omicidio Quello bello e buono E quindi naturalmente Beh meglio così Naturalmente peggio Se ci fossero degli omicidi Voluti Piuttosto che così Che ci sono dei Naturalmente Oh grazie mille Ci sono degli incidenti Non voluti Ok ragazzi Ci siamo quasi Si tratta di un incidente Sulla collina Vera e propria Perché eccoci qua Sopra la collina Di Los Santos E penso che Oh mio dio Ok adesso esattamente Ho capito qual è il problema Togliamo le sirene Lasciamo i lampeggianti Questo Sembrerebbe essere No anzi È meno grave Di quello che pensavo Apparentemente Ah no Ok ecco la seconda macchina È là la seconda macchina Ecco per quale motivo Ci hanno chiamati Bene Scendiamo da qua ragazzi Andiamo a vedere Il problema Andiamo a vedere Cosa riusciamo A capire da qua Allora iniziamo Con le auto Che si trovano qua sopra Qua c'è un'auto Che è completamente Frantumata Beh no In realtà il corpo Neanche troppo Sono frantumati Finestrini Ma sembrerebbe Che il proprietario Stia bene Che si trova qua C'è uno ferito Ma che sembrerebbe Comunque stare abbastanza bene Sta chiedendo aiuto Non so per quale motivo Non si trova Sull'ambulanza Ma l'hanno lasciato per terra Ci sono i vigili del fuoco Con la visiera chiusa E anche abbastanza annerita Non vorrei che sia scoppiato Un incendio Ma adesso andiamo A verificare Quindi ecco qua l'auto L'auto in questione ragazzi Targa 09Q 0H 996 Perfetto E non ci sono conducenti A bordo Sarà forse il tipo ferito Allora non capisco Dove è il morto Allora qua Per terra vediamo Un po' di qualche sostanza Ma non è sangue Però effettivamente Purtroppo Da quello che ho capito Ragazzi Qualcuno è stato Probabilmente Catapultato da qua Perché vedete È andato a sbattere Contro questi due alberi E ha uno dei due Rimasto dentro Che dovrebbe essere Quello ferito Dato che parlavano Di tre persone Penso che l'altro Sia stato catapultato Fuori da qua E hanno detto Gli agenti I pompieri Che c'era un incendio Vero e proprio Quindi adesso Vediamo se riusciamo A trovare tracce Di qualche persona Qua mi sembra tutto ok Forse l'incendio Non è neanche arrivato Fin qua O forse si Non lo so E magari sono stati Abbastanza bravi Da spegnerlo Vediamo un attimo Se troviamo qualche traccia Qua vedo segni di Vedete che l'erba È completamente schiacciata Come se qualcuno L'avesse Ci fosse andato addosso Qua lo vedete È abbastanza strana Come situazione Proviamo a scendere ancora Anche qua vedete È tutto completamente ammassato Molto più Vedete qua ci sono gli erbetti I filetti di erba Alta E qua è stato tipo schiacciato Sono gli unici Ah ok Purtroppo ecco qua Ho capito Benissimo Eccoci qua Abbiamo un corpo Di una donna E questo corpo È addirittura Completamente Bruciato E non so se lo riuscite a vedere Sulla pelle Ci sono appunto Tantissimi segni Appunto Dalla bruciatura Vediamo di fare una foto Sembrerebbe essere una donna Dalla Probabilmente 25 anni O 25 O 30 anni Qualcosa del genere Attenzione Tagliamo la foto L'abbiamo mandata L'abbiamo anche sincronizzata Con il server Ci dice in alto a sinistra Sfortunatamente Questa donna È rimasta Completamente Bruciata Allora è stata catapultata Veramente Per tanti metri Vedete laggiù Che c'è la macchina Si vede piccola piccola È stata catapultata Fin qua In cui probabilmente O è stata bloccata Da questi alberi Penso che abbiamo trovato Tutti i corpi Che stavamo cercando Detto ciò ragazzi Non mi rimane Da fare altro Che parlare Magari Qualcosa di più Con loro I paramedici Per capire esattamente Cosa hanno visto Al loro arrivo Al loro primo arrivo Insomma Vediamo un attimo Magari parliamo anche Col signore Perché non ho capito Benissimo Come è andata Ma Ehi salve Come va Non così male Dai Si stavo andando Un po' veloce E purtroppo Quel pover uomo E non sa probabilmente Della donna Ok si signore Sto cercando solamente Di dare una controllatina E potrà Non lo so Andare via Dipenderà dai poliziotti Ok non ho mai Fatto un incidente Prima Ok non fa niente Non fa niente Benissimo Quindi niente Abbiamo dato tutte le informazioni E vediamo che cosa ci sa dire Qua vabbè Sappiamo che la macchina È stata rubata Ma saranno I poi agenti di polizia Ad occuparsene Lui invece Salve come va signore Abbastanza male Sinceramente Ok Può dirmi qualcosa Che il paramedico Non sa Che magari può dire a me Perché così Non so Sono il Mi vede Sono della ris Quindi insomma Mi dica qualcosa in più No gente Tutte le informazioni Che le ho dato È tutto quello che c'è Da darle Non c'è nient'altro Che posso darle Ok signore Per caso quel signore Le ha portato poco rispetto Perché mi sembrava così In realtà No si vede che ci teneva Alla situazione È stata un trauma Anche per lui Beh allora grazie Si riprenda per favore Grazie Si riprenda Benissimo ragazzi Noi direi che qua Anche abbiamo terminato Facciamo la nostra schedina E niente Poi possiamo decisamente Terminare qua Perché si è allungata Parecchio la situazione Call out numero 3 Facciamo un nuovo report Numero 3 abbiamo detto No 4 3 Codice 2 Super gas Per l'agente 1 Allora Vediamo di scrivere qualcosa Incidente Colline Colline Di colline Di Los Santos Ok Auto Dentro il fossato Dentro il fossato Tra due alberi Conducente Ferito Passeggero Donna 25 30 anni Da confermare Catapultata Nel dirupo Nel dirupo Per Penso fossero 100 metri Qualcosa del genere Per 100 metri Presenta Ustioni Totali In tutto il corpo In tutto Il corpo Di Quarto Grado Virgola Ustioni A tutto Spessore A tutto Spessore Ok Anche questo ragazzi È fatto Lo inseriamo Nel nostro Database E niente Basta così Ok Perfetto Stato creato E ha inserito Benissimo Usciamo da qua Usciamo da qua Tanto non ci serve più Per oggi E ragazzi Direi che terminiamo Qua questo episodio Quindi grazie a tutti Della visione Mi raccomando Lasciate un like Se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi per nuovi episodi Su LSPFR Vita Reale E le altre serie Che intendo portare Detto ciò In descrizione c'è il mio TikTok ragazzi In cui sto facendo Ha dei video abbastanza Interessanti Seguitemi lì Vi ringrazio davvero Dei 10.000 follower Per me è una cosa Veramente importante Apro un nuovo social network E in poco tempo Sono riuscito ad arrivare A 10.000 veramente Grazie di cuore In descrizione c'è anche Il mio Instagram Quello molto più importante Il mio social network preferito Cioè più importante di tutti Quindi seguitemi lì Perché aggiorno sempre La novità lì Su Instagram Nelle storie Ad esempio se non esce un video Lo sapete da lì Iscrivetevi mi raccomando Campanellina Eccetera eccetera Grazie a tutti ragazzi Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.